Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand Rinnegan che cazzo stai facendo? Faccio cose Fa rinnegan, rinnegan, fa cose Io ho lo Sean Scoob pronto eh Va bene E stavolta li apri tu vaffanculo eh Oddio, oddio Guarda Cosa? Quale c'è nel nostro vecinto? Andiamo a ucciderlo Schermiamolo, dirediamolo un po' dai Schermiamolo Che termine avanzato Guarda l'esperienza che lascia sto albero E chi è sta qui? Ciao Centauro! Morto Perfetto Oggi come promesso andiamo nell'altra dimensione Che cazzo c'è qua? Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Cosa c'è qua dentro? Oh Oh Che cazzo è sta cosa? Rinnegan È un verbo di merda È così grande? Sì Non riesco a ucciderlo Ma come fa a essere così? Large worm? Tu cazzo è grosso? Ma Spostati Guarda Io ho un superpotere Spostati Vai Che cos'è cosa hai fatto? Oddio Come fai a rompere così? Ah Vero Oh Vediamo Ma quanto cazzo è grosso sto coso? Continua a cadere Large worm? Ma che schifo è? L'ho visto adesso ragazzi Non ci siamo Cosa? È là sopra Ma scusè È là sopra Rompiamo da sopra allora no? Cosa dici tu? Rompiamo da qua sopra E vediamo Dove si colpisce sta cosa? Ecco Ah l'ho colpito? L'ho fatto male L'ho ucciso? No No Però l'ho colpito eh L'ho fatto male E sta pure prendendo foco 25 di vita Ancora un colpo e l'ho uccido Ancora un colpo e l'ho uccido Eh l'ho ucciso? Sì Oddio quanta roba ha lasciato Ha lasciato anche le Le titanio mingo Titano urano Cosa? Cosa c'è? Warm tot Warm tot O tu Ah dentro Merda dove l'hai messo? Ma cosa cazzo è? Ma ci sono dei pezzi di verme ancora qui? Ancora? Ancora ma dove hai messo il warm tot? Ce l'ho io qui qua Non è che serve per fare la big verta no? Ma no non penso Eh boh vabbè allora lasciamo stare Un'altra per serve Uh Sì Sì serve Allora dammela qua Poi la metto laggiù immediatamente Vieni Che cazzo Questo qui il warm tot Ok perfetto Andiamo a casa Perché roba non si riesce mai a stare tranquilli in ste modo Mettiamola qua Perfetto Vedete vi faccio vedere Serve per fare la lama della big verta Mi sembra a Vortex Eye Queste Kraken Tooth Il Kraken T-Rex Mettra Un T-Rex No Questa che ho avuto giù Le Titanium Ming O queste cose qua Ah se ti trovo la roba lì eh Adesso diventare comunque un'altra Questa che prendiamo la chance cube Deve andare a domare il drago adesso noi Almeno Almeno a provarci Comunque aspetta un attimo Che vado assolutamente Ad aprire questo chance cube Lo apro qua vicino Eccomi Aspetta L'idea me tu ad aprire una volta Allora affanculo l'apro io Cosa mi da uovo Uovo di lupo E poi mettiamo un altro chance cube Con Una mela d'oro Perfetto Meglio me la porto a casa Cosa devi fare Che dici una cosa importantissima Una cosa importantissima Ah devi farti una girlfriend Farti una girlfriend non è bello da dire Cioè nel senso Nel senso Nel senso parliamone Allora Quando vuoi sono pronto Sai il troll block Possiamo andare nell'altra dimensione Via Oddio siamo sfonati ragazzi Del c'è la motra E l'iricamata uccisa Motra scale Vabbè Ma tanto serve per prendere La strada del nether Ma ce l'abbiamo già Ne abbiamo già Così ne abbiamo uno in più Vabbè così ne abbiamo uno in più Giusto Girfriend venni qua Ah si riricamata Dov'è Girfriend Dov'è Ma ti serve anche nell'altra dimensione Sì Ma dov'è Ah eccola la Girfriend Venga qua Venga qua Ma non puoi dare le armature Giusto? No Aspetta Le do l'arco Uno degli archi che non abbiamo Che non ci servono Ma veramente le puoi dare l'arco? Sì Ma adesso se lo uso però Sì ce l'ha in mano l'arco Bisogna essere usato Vabbè Spara Ma adesso questi qua Non sono nemici Per quello non gli spara Allora Prima andiamo nel dungeon Che ci manca Allora Vedi Rinnegan Questo è il dungeon Che ci manca Vedi che c'è C'è un costo di ossidiana Io siccome Non ho Quanto ho Efficienza 5 Efficienza 4 io Tu hai efficienza 5 Giusto sul martello Sì ma Vabbè Rompo io Rompo io Rompo io Rompo Attento che dentro Ci sia uno spawner Non so di che cosa Vedo una terra che gira Oddio Oddio Attento Ci sono cavalieri dell'end Ci sono cavalieri enderman tipo Attento che c'è anche l'avas dietro di te Sì Ero te lo spawner Bravo Ero te lo spawner Perfetto No ce n'era uno Almeno qua Non ce n'è più nessuno Allora Vediamo un po' Qua ci sono casse Casse con Niente Librerie Casse con Fermo No no Visto male Qua c'è una cassa grossa Con delle perle Vabbè che schifo Pensavo molto meglio Che merda Mi sono rimasto un po' deluso Non è che magari continuo sotto Vediamo qua se ci sono Tu vedi sempre Ansied dry WTF Spawn Egg Bug Spawn Ok WTF Oddio Fermo Fermo Cosa Vedo 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 Cos'è Un allosauro Un tirannosauro Allosauro Dove ho trovare anche il tirannosauro Perché ho visto che Con il dente di tirannosauro Che te lo droppa quando lo uccidi Ti dà un affare per fare la big beta Con son t-rex No questo è Come dov'è Sì t-rex Dov'è dove 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 rinagano Non ti vedo Ah ti vedo Ok ti vedo Ti vedo Arrivo arrivo Aspetta con gran calma Arrivo Ci sono anche Anche il tirannosauro piccoli ci sono Cazzo di cos'è questo qui Guarda che mi picchia Ma muori Lei è ucciso Muori male Guarda guarda il tirannosauro Lei è ucciso Sì Andiamo a prenderci la roba Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua L'hai preso tu Sì Prendi anche la carne cruda Oddio mi dà anche Tanta esperienza sto stronzo Eee Guarda che si motra Guarda che si motra Hai preso tu No Ascolta Hai preso il dente Sì È più importante il dente Ho il dente Anse dry Adesso possiamo trovare il draghetto Allora Muori creeper di merda C'è motra? Chi se ne frega della motra L'abbiamo già uccisa mille volte C'è motra? Abbiamo di motra Dappertutto Quella che ci sono le cose Qui le penshi Che mi rompono le palle Ok Qua c'è una Cosa fai Fai a gara Fai a gara con me Con gli altri No no capito Io Toh motra del cazzo Muori anche tu Via Perfetto E qua cosa c'è T-rex Un altro t-rex Adesso lo uccido Stun 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 Morto No Basti ma ha tanta vita 160 Più che altro ha tanta armatura Stai pronto Ok Ok ucciso Perfetto Anche ti tagli un ingold Sì Perfetto Perfetto Guarda qui Blade Roba di Blade Madonna Ma cos'è Quanto drop Dove sei Busso sto andando avanti a caso Comunque Adesso dobbiamo cercare quel cazzo della dieta Andiamo in dire Ah c'è davanti a me Ti vedo Possiamo andare in due direzioni diverse Prima che lo trova Urla Ok Come sempre Via Tu vai in territorio di là Io vado in tutto la parte della posta Io vado in verso nord Ok Io vado Aspetta che ho nello zaino il mio overboard Quindi mi muovo con quello Così non ho neanche rottura di palle dei mostri E me ne vado a cercare il draghetto Oddio ragazzi Oddio 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 Devo scendere Devo scendere Ho trovato uno di quegli spondi Questi mostri di merda Ti ricordi sti due mostri del cazzo? Sì Ecco 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 Mi stanno facendo malissimo Tra l'altro Ma muori Porca puttana Quanto male fanno Aiutami E io sono andata a prendere il globo Ti ricordo Eh sì Lo so Dai muori brutta merda di uomo Pio mio Vieni qua Vieni qua Ah no Scappia Scappia Perché sai che muori Totti Ti spammo freccia manetta Questi qua in teoria Droppano una cosa Quella per la big bet In teoria Ecco L'ho ucciso L'ho ucciso Fermo Fermo L'ho ucciso E che droppano? Non so che cazzo droppano Vediamo un po' Fiume? No 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 Forse ho sbagliato No non droppano Quello che pensavo io Ok la quarta del Mike San Buca È grosso eh Guarda che è veramente grosso 45-65 giorni di esplorazione Nessuno ha un trasse del Baby Dragon Oh intanto mi ha fatto male Alla Dio mio alla natura Vabbè vado a prendermi l'altro Di nuovo l'overboard E me ne vado Oh Dimmi Trovato? Dove l'hai trovato? E dove? Non su una scogliera Allora aspetta Scendo dall'overboard C'è dall'overboard Metti il puntatore Che mi arrivo Dove cazzo è sto Overboard Sto Non lo vedo io Non lo vedo Allora dagli da mangiare carne cruda Gli hai dato da mangiare carne cruda? Aspetta Gli la da? Gli la mangia? Sì ok Ok ha fatto quolicini Ho visto ha fatto quolicini Vabbè ok Come faccio? Eh adesso è tuo Adesso lui ti segue Prova andare in giro Va in giro Vedi che ti segue? Lo vedi? Ok Il problema è questo Non so se ti segue Nell'altra dimensione Se noi torniamo a casa Adesso Come non ti segue? Vedi qua E tu devi aspettare che cresca adesso Draghetto dov'è? E qui qui lo vedo Dov'è? 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 Non lo vedo Ma che bellino che è? Ma che bellino Ma c'è solo carne cruda? Solo carne cruda? Quei mostri sono fatti di carne Quali? Quindi mi appena ecco Anzi Dried Bobzilla Mobzilla Questo lo prendo adesso Vedete che cazzo è sto Mobzilla io Cos'è? È una roba grossissima Vediamo un po' Vediamo un po' Ve lo dico subito Che cos'è questo Mobzilla Oh merda Che cazzo? Oddio che sono spawnato Cosa ho fatto? Andiamo via Io scappo Lo vediamo in un altro video ragazzi Via via Porta via il baby drago Porta via il baby drago Via via Scappa Scappa Non gli faccio niente per frecce Vai via Vai via da lì Vai via Non sta a ucciderlo Lo vediamo in un altro video Rinegando Vai via Ma non gli faccio niente Meglio Meglio Lascia stare Che poi magari Ti uccide il baby drago Io sto scappando ancora Come uno stronzo Devo trovare un altro Di quei Mobzilla Mobzilla Anzi Dried Qualcosa Andiamo a casa Così vediamo se il draghetto Ti segue Allora ragazzi Siamo Tele Trasportati a casa Non lasciamo a parlare Eccola qua il baby drago Ti ha seguito Allora mettila nel recinto Fai così Ma mi segue brutto pirla Ma non c'è un modo Per comandarlo Se schiacci col tasto destro Mani vuote Mani vuote Prova mani vuote Non puoi dirgli niente No Non puoi dormire soltanto di notte Ben capito Non puoi dirgli niente Allora ti segue Così basta Niente Dobbiamo aspettare che cresca E poi lo puoi domare Esatto E quindi niente Lo puoi domare Lo puoi far volare Lo puoi volare Perché non usa questo drago Perché Perché è bello Ah e adesso non sei contento Che è il tuo baby drago Sì Eh mettilo qua Dai anche se poi ti segue Chi se ne frega Dai Dai uno schiazzo Se ti segue Devi capire che devi rimanere qua Comunque Allora Facciamo così Adesso abbiamo tutto Quello che dobbiamo fare Anzi Non abbiamo fatto tutto Eh no No Perché devo tornare In un'altra dimensione A prendere Il Mobzilla Ancient Dry Ed è qualcosa Tipo dove è finito Il baby drago Adesso Arriverà Ma sì che arriva Arriva Tranquillo Comunque facciamo così Il prossimo video Sponiamo il Mobzilla Che deve essere tipo Un Godzilla Sì ma non abbiamo niente Che lo uccida Noi lo sponiamo Poi al massimo Moriamo O scappiamo Questo è il punto Rilligan La cosa Bisogna farla In maniera ignorante Quindi Quella è l'ultima cosa Che dovevamo fare In quella dimensione Però ce ne sono molte altre Eh Uccidere il Mobzilla Eh no Il baby drago E prendere Le 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 Gli spoli I dungeon Abbiamo fatto C'erano sei dungeon Abbiamo fatti tutti Quindi tutto quello Abbiamo fatto Abbiamo fatto Al massimo Torniamo Se ci manca qualcosa Ci mettiamo un attimo A schiacciare il tasto destro Sulla formica rossa E poi dobbiamo fare Uccidere il gogilla Però gogilla Lo uccidiamo qua A casa nostra Va bene Sul nostro terreno Ecco Quindi se vi è piaciuto Ricordate tanti Mi piace Il prossimo video Arriverà Bobgilla Gogilla Ciao a tutti E al prossimo video